e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi vi mostrerò dove trovare la macchinetta del mercato nero di maurice nella settimana che va dal 10 al 17 giugno questa settimana ci troviamo ai droughts la seconda mappa del gioco che potrete scoprire nello specifico visto che ha due punti di spawn il punto più vicino per arrivare la macchinetta sarà droughts autostrada nel caso siate appena arrivati nella mappa allora dovrete proseguire dallo spawn iniziale e arrivare fino a dove mi trovo io per sbloccare questo spawn detto ciò una volta trovato lo spawn di droughts autostrada vi basterà prendere un veicolo qua vicino e fare un lungo giro intorno sulla sinistra potrete seguire la strada per un bel pezzo e dovrete continuare a tenere sulla sinistra il percorso è relativamente semplice devo dire non c'è nulla di complicato stando a sinistra abbiamo fatto un cerchio completo e qua di fronte avremo questa sorta di caverna con dei diciamo delle torri dei nidi di barkid potete ignorarle tranquillamente e tirare dritto dentro la caverna eliminiamo magari i nemici che stanno di fronte giusto per non avere disturbi dopo e all'ingresso troveremo la macchinetta del mercato nero questa settimana nella macchinetta potremo trovare la catsman potremo trovare kingskull e queenskull che per chi non lo sa sono la stessa pistola ma cambia nome in base all'elemento e lo scudo madcap molto semplice detto ciò vi ricordo che se avete interagito con la macchinetta e cambiate mappa o tornate al menu principale la macchinetta scomparirà per circa 30 minuti quindi non è farmabile in modo veloce però è anche vero che ogni volta che la macchinetta sparirà e riapparirà cambierà quello che c'è dentro rimarranno sempre quei tre tipi di armi ma se prima avevano un certo tipo di parti e un certo tipo di consacrazioni questa volta saranno diversi e magari in numero diverso potrebbero capitarvi 5 kingskull una catsman e non so quanti madcap eccetera eccetera quindi vi ricordo che la macchinetta rimarrà qua per tutta la settimana e cambierà soltanto giovedì prossimo detto ciò per questo breve video è tutto spero vi sia piaciuto vi sia interessato in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi per aiutarmi a fare molti più video e fare contenuti migliori detto ciò vado a preparare i prossimi video sui nuovi giochi annunciati dagli sviluppatori di borderlands e da roide tutto ciao a tutti grazie a tutti